Arrettata in piazza mentre Brandini si scaccola, le mezz'arriva, tosse, nasma, ci ha avuto mezz'ora per preparare. Allora ti volevo rassicurare c'è una festa qui a San Michele, 29 di San Michele, concertino, la messa. Io lo so perché fai tutto questo. Per te? No, perché il Papa, ora puoi tornare in chiesa perché il Papa ha aperto ai gay. Ecco, sì, sì, mi ha telefonato io, mi ha detto se volevo fare il Presidente, ora Presidente è un po' troppo. Comunque per Arezzo ci penso tutto io. Anzi, ti vuoi iscriverte? Io no. Io già ci andavo in chiesa da prima. Ma gay lo facevi? Io no. Te quando ti sei accorto di essere diventato? Due anni fa, due anni fa, sì, sì, camminavo per qui da Monaco, insomma, mi venne... Ascolta, ma nel video di Berlusconi che ne pensi che riscende in campo? Eh, a questo campo che sono due, quindi si scendono tutti, ma a Zappallo non mai nessuno. Io guarda, io ti giuro, era arrivata la mia venerabile età che con l'angoscia non ci ho mai vissuto, ho dei problemi. Da poi Berlusconi in questo processo io la notte non dormo, insomma, penso Berlusconi... Quale il suo video, la rifondazione di Forza Italia, l'hai visto? Sì, sì, bellissimo. Ti piacciono? No. Eh, a presa di cura mi dici le cose. Come fa piace? A me di Berlusconi non mi piace niente. Non mi piace neanche i suoi sui comuni. Fa l'opposizione sempre quando è successo qualcosa. Questo è il Consiglio Comunale, stupendo. Quelli dei Bianconi ci mette sempre bocca quando è successo. Ce l'ha col prefetto, ce l'ha col questore. Non danno il Bianconi perché Bianconi è un mio amico. Benissimo. Allora ce l'ha col prefetto, con questore e col papà. E lo stimacchio. Ce l'ha sempre col... Questore. Eh? Col prefetto, col papa. Col sindaco. Col sindaco. Ce l'ha con tutti. Allora, a proposito, Guido Monaco, chiudiamo con Guido Monaco. Guido Monaco è quello che io ho sempre detto, che te hai sempre detto e che noi abbiamo sempre detto. Oggigiorno per combattere un po' la delinquenza ci vuole le forze dell'ordine sul territorio. Fanno poco anche quelle perché una volta che le ha presi li portano a casella ma poi le rimando fuori. Quindi ci vuole le forze dell'ordine autorizzate da qualche labbrata. Qualche labbrata, tenelli in galera. Sì, perché tutta questa integrazione... Sì, sì, no, è stata fatta così alla viva al parco. Ma basterebbe applicare le leggi che c'hanno in Romania o in Albania? Perché in Albania o in Romania si fanno sti versi. No, sì, per amorti. Capito? Ma non ci penso a niente. Basterebbe applicare le loro leggi. Ma loro non c'ha... Eh, tu sei scuola. Sono malato e te mi paghi, mi dai i cash, come fossi sano. I cash, eccetera. Ma ormai c'è la morfina. E' altro. Sì. Saluta, fai l'estremo saluto, vi è ci si vede questa altra settimana. Perché ora? Perché se ci arrivi ci si vede questa altra settimana. E se no, la fai alla memoria. Pax, alla memoria. Vieni qui, te conti, qui e voto. E fai, che mi interro. Te lo prometto. Grazie. Sperdiamo che tu muovi la prima temela. Così io la faccio per te. Sei toccato le frattaglie.